Ad Ascoli tu hai giocato, conosci bene la piazza, che ambiente troverai in Modena ad Ascoli? Sì, conosco bene Ascoli, ero molto felice a Ascoli, adesso sono a Modena e adesso per me sono importanti i punti, lo sappiamo quanti sono importanti i punti per noi. Quindi ci sarà Ardemani, non ci sarà Zaza, che è la rivelazione del campionato, forse è meglio anche per voi che non ci sia un giocatore come lui. Sì, è vero, è meglio per noi, non giocava Zaza e sapevo quanto è importante la nostra Ardemani. Per quanto riguarda la classifica, 7 giornate ancora, Modena deve fare i punti in casa, ma anche dovunque si trovi deve cercare di segnare, fare gole e vincere. E' importante, speriamo sempre tutte vittorie a queste 7 partite, però diamo un punto fuori casa, speriamo 3, a casa sono importanti sempre 3 punti. Mister, si va ad Ascoli, uno stadio difficile per tutti, dove tu tra l'altro però hai lasciato grandi, grandissimi ricordi, partiamo da quello. Sì, partiamo dai ricordi stupendi, devo molto a quella città, a quei tifosi straordinari, abbiamo fatto due anni e mezzo, tra virgolette, stupendi dalla mia vita, anche l'inserimento dei miei figli a scuola, sono stati molto bravi. Al di là di questo, come hai detto tu, è una trasferta difficile, ma è difficile anche per loro, insomma, noi stiamo lavorando e stiamo lavorando bene, sappiamo benissimo quali sono le difficoltà, le affronteremo con la giusta concentrazione e voglia di far bene, insomma. Quanto respiro, quanta carica ha dato la vittoria contro la Propercelli? Beh, ad Adona, però dobbiamo rimanere con i piedi per terra, al di là di questo io dico che noi non abbiamo ancora raggiunto niente, siamo ancora, come il malato, tra virgolette, il raffreddore, ecco, ci vuole un po' di, tengo a precisarlo perché, ci vuole un po' di aspirine ancora di più, piano piano, io credo, credo molto nel lavoro, loro sono disponibili in questo e sono convinto e consapevole che loro, al di là della vittoria, però è stata una vittoria, tra virgolette, non giocata come piace a me, però voluta, dobbiamo fare le stesse cose lì con un po' più di attenzione. Ma tutto chiaro no, perché abbiamo alcuni problemini, vediamo domani mattina Usugi, si è allenato a parte, si è allenato stamattina, Della Bona sta riprendendosi, insomma, credo, credo che vediamo domani, insomma, io credo che dobbiamo affrontare domani una partita con l'estrema concentrazione da parte di tutta la Rosa. Mister, capitolo chiuso, Livorno, come si prepara una partita così importante per il nostro destino, più a livello tattico o psicologico? Ma credo che questa settimana abbiamo lavorato anche sotto l'aspetto tattico perché comunque per me era la prima volta che ho potuto, ecco, lavorare sotto l'aspetto tattico lavorando nella settimana interna. È normale che anche mentalmente bisogna, ecco, lavorare molto. Comunque una partita importante, una delle sette importanti, che però va affrontata sicuramente con equilibrio e con dei presupposti importanti che noi sappiamo che dobbiamo tirar fuori. Modena è una squadra particolare, ha già perso nove volte in trasferta, però ha riduce da un successo e in avanti ha questo Ardemagni che fa paura. Assolutamente sì, e poi hanno cambiato anche loro allenatore, comunque sono due allenatori diversi. Marco Lino è un allenatore che predilige soprattutto lo spettacolo, un 4-3-3, probabilmente anche a livello caratteriale è diverso rispetto a Novellino, che è uno che cura molto bene la fase difensiva, le ripartenze e comunque dà quel carattere e quella cattiveria giusta della squadra. Quindi sappiamo di affrontare una squadra importante, una squadra che sta facendo un percorso diverso, però noi dobbiamo, ecco, valutare le nostre possibilità e credere in noi stessi, avere grande autostima, ma soprattutto avere grande equilibrio e pazienza durante la partita. Lei sta parlando molto di equilibrio, quindi significa che lei considera il campionato ancora molto lungo, quindi guai andare all'arrebaggio perché poi alla fine ci si può salvare anche l'ultima giornata. Io credo proprio sì, credo che tu abbia detto una cosa giustissima, spesso uno comincia a dire che devi vincere questa partita, devi vincere quella partita, invece io credo che probabilmente se uno avesse fatto dei calcoli diversi in qualche partita dove comunque invece di vincere l'avessi pareggiata avresti avuto qualche punto in più. Come nello stesso tempo, io è normale che gioco per vincere e comunque dare la mentalità giusta alla squadra, però a questo punto del campionato comunque devi fare anche qualche calcolo. Se qualche calcolo significa anche non perdere, andare avanti perché comunque ci sarà una continuità di risultati nelle partite prossime, quindi bisogna valutare partita dopo partita. La sua esperienza sulla panchina bianconera è stata anche caratterizzata da un po' di sfortuna, tantissimi infortunati, squalifiche. Contro il Modena mancheranno due elementi importanti lì in mezzo, Di Donato che è la personalità, l'esperienza e Morosini che comunque avrebbe fatto comodo. Sì, sì, assolutamente. Comunque io fin da quando sono arrivato ho sempre detto che comunque per me ho 22-23 giocatori a disposizione, quindi devo lavorare col materiale che ho e farlo renderlo al massimo. Se manca qualcuno posso avere qualche pensiero in più, però poi ripeto, per me questo è un organico che comunque anche mancando con qualche giocatore può far bene e soprattutto un allenatore deve lavorare su quello che c'è. In settimana abbiamo sentito Mario Bonfiglio che lei conosce molto bene, ha detto che una squadra con la storia dell'ascolo di calcio deve salvarsi a tutti i costi. È normale che nei nostri pensieri, noi facciamo questo lavoro e per noi è fondamentale salvarsi e avere la mentalità di una squadra che si salva. E allora dobbiamo dimostrarlo sul campo. Ho visto preoccupazione, ho visto ansia, ho visto positività. Ognuno di noi affronta le cose nella propria maniera. In questo momento per me è fondamentale dare positività, dare autostima, soprattutto fa capire ai ragazzi che loro hanno le possibilità e le caratteristiche di potersi salvare, poter dare tanto e fare punti. Ma queste caratteristiche e queste doti vanno messe in campo perché a chiacchiere sicuramente non andiamo a nessuna parte. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni del match in programma domani pomeriggio allo Stadio del Duca con la direzione di gara del 31enne Maurizio Mariani della sezione di Aprilia. Il tecnico giallo-blu Varter Novellino, che ha vestito la maglia dell'Ascoli del 1982 al 1984, dovrebbe schierare il suo Modena con un modulo 4-4-1-1. Colombo in porta, in difesa Aleksandelkovic, Zoboli, Perna e Gulan. A centrocampo Signori, Osugi, Moretti, Altroex e Lazarevic. Sulla tre quarti Mazzarani alle spalle di Ardemagni, capocannoniere della Serie B con 19 reti. Rosario Pergolizzi ha diversi problemi a centrocampo con l'infortunio di Donato e la squalifica di Morosini. Convocati anche i giovani attaccanti Giovannini e Gragnoli. Il modulo dovrebbe essere i 3-4-1-2 con Mauro Antonio tra i pali, in difesa Prestia, Peccarisi e Faisca. Al centrocampo Scalise, Russo, Loviso e Pasqualini, in ballottaggio con Colomba, sulla tre quarti Fossati, in attacco Fezzagin e Soncin. Analizziamo anche le quote Eurobet, che sono molto equilibrate. La vittoria dell'Ascoli è quotata a 2,50, il pareggio a 2,95, la vittoria del Modena a 3. Grazie a tutti.